e stamattina vi ho svelato quello che so sulle pervinca queste piantine carinissime che però sono difficili se non si conosce il modo giusto di darle l'acqua di dargli l'acqua sono delle piante difficili perché seccano allora ragazze buongiorno di nuovo ragazze oggi è una di quelle mattinate in cui faccio faccio però mi sento sempre ferma e allora ho cominciato con lo sfogherare tutte le sedie anzi quattro due li ho lasciate perché diciamo possono andare perché giustamente comincio a ricevere qualche telefonata e appunto qualcuno che vuole venire per portare il regalo a mia figlia e quindi mi devo dare una mossa le sedie erano abbastanza sporche e quindi le sto lavando scusatemi mi squillo il telefono e mio figlio e quindi ho risposto a mio figlio e niente quindi ragazze appunto vi stavo dicendo siccome mi hanno telefonato appunto perché qualcuno vuole venire direttamente a casa mia qualcuno invece poi andrà da alessia e questi sono i miei cugini quindi verranno da me nel frattempo ho fatto del buonissimo pomodoro questo è un pomodoro ciliegino e adesso do una passata ed è fatta quindi che cosa vi stavo dicendo che faccio faccio e mi sento ferma perché mi sento con le cose in mezzo allora ho lavato le fodere quattro nel frattempo ho staccato la tenda da qui e la sto lavando pure perché non è molto che le ho lavate però c'è il discorso che questa tenda è vicino alla cucina quindi vicino a dove si cucina dove faccio i piatti e quindi diciamo che si sporca più facilmente quindi l'ho staccata e ora la lavo dopo che finisce appunto la lavatrice del delle sedie credo che stia finendo vediamo a che punto è ancora 27 minuti quindi qui ci sono tutte le fodere delle sedie e quindi qua c'è la tenda della cucina che adesso che adesso faccio l'altro giorno ho comprato questo scusatemi questo ammorbidente al deco così perché voglio lavare qualcosa voglio che abbia un po di profumo però ragazze vi devo dire che non è che mi piaccia molto petali di gelsomino ma io proprio questo odore non lo sento proprio comunque ragazze quindi che vi stavo dicendo quindi ora lavo la tenda ho sistemato tutte le cose che avevo stirato ieri naturalmente maia si sta riposando giustamente la nonna lavora e lei si riposa e niente ragazze e stamattina infatti diceva mio marito che ridendo e scherzando mancano circa 20 giorni al matrimonio come dire noi siamo pronti insomma vestiti tutto quanto però naturalmente viene sempre un pochino di ansia viene sempre un po da dire oddio mi sarò scordata qualche cosa vi faccio vedere ragazze ieri ho fatto ancora a confetti anzi vi ho fatto quel piccolo tutorial e li ho messi qua questi sono 43 pacchetti sacchetti di confetti guardate che sono bellini tipo pompon vedete vedete che sono bellini e quindi considerate qui ce n'è 43 io devo fare qualcosa come 150 pacchi quindi ne ho fatto un terzo va bene ragazze quindi niente ora a in tutto questo ragazze mi devo fare il colore quindi ora faccio una cosa mi applico il colore e nella mezz'ora di pausa pulisco il bagno e passo un po di straccio allora ragazze ho fatto il colore guardate che chioma e poi ho utilizzato questa maschera che ho comprato qualche giorno fa pantenna alla cheratina ragazze vi dico non vorrei essere ripetitiva ma davvero spettacolare questa questa maschera vediamo l'effetto quanto mi dura questa morbidezza questo liscio questa sensazione di capello nutrito non vorrei essere ripetitiva vi dicevo vi spiego perché perché trovo tanti prodotti a cominciare da quelli che costano pochissimo della sienne e devo dire che sono tutti validissimi non c'è un prodotto finora che diciamo non mi ha soddisfatto e a parte un prodotto di sun silk che serve sempre per i capelli lisci che però ho utilizzato una volta e basta perché mi unge troppo i capelli e credo che sia un prodotto che è senza risciacquo ma queste queste maschere qua questa in particolare che con risciacquo vi devo dire ragazze che è favolosa il costo è io l'ho presa mi pare circa 3 euro e 90 già diciamo scontata in promozione devo dire che mi piace molto vi farò sapere sicuramente quanto mi dura questo effetto nel frattempo sto guardando apro i capelli per vedere se ho coperto bene i capelli bianchi mi sembra di non scolgere nessun capello bianco e quindi questo è il colore prima del colore che farò poi per il matrimonio di mia figlia quindi poi tra un mesetto no anche meno farò quello appunto per il matrimonio